Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per essere qui e benvenuti e benvenuti all'evento di premiazione di Vitamina C, cooperazione, cultura d'impresa e competenze digitali, edizione 2021-2022. Siamo molto lieti ovviamente di essere qui oggi in presenza, anche se in parte, dato che come saprete meglio di me siamo qui in rappresentanza delle cinque classi che quest'anno hanno partecipato a Vitamina C. Quindi salutiamo subito anche da casa chi ci sta seguendo in remoto, in questo momento ci sono circa 26 persone collegate e chiediamo anche a loro se hanno piacere di attivare la webcam ed eventualmente se vogliono rinominarsi per monitorare chi effettivamente ci sta seguendo e se per qualsiasi commento, osservazione c'è a disposizione lo strumento della chat che viene gestito dalla regia. Siamo alla quindicesima edizione di Vitamina C, abbiamo dal 2007 realizzato 10 edizioni di copyright che era la versione originaria del nostro progetto di simulazione di impresa cooperativa e con questa siamo a cinque edizioni di Vitamina C, questo nuovo progetto che ha portato una serie di innovazioni all'interno della nostra progettualità. In tutto, in questi 15 anni, sono stati coinvolti oltre 2600 studenti con 20 diversi istituti e 90 classi. Quindi, insomma, direi che siamo a un buon risultato e possiamo andare avanti così. Allora, come sapete, l'obiettivo di oggi è quello di condividere le idee di impresa che le classi partecipanti hanno realizzato durante questi mesi di percorso in classe attraverso una simulazione appunto di impresa cooperativa che è stata realizzata attraverso diversi strumenti digitali, attraverso l'elaborazione di un business model canvas, attraverso delle riflessioni sulla comunicazione, sui budget, su tutto ciò che ha a che fare con l'efficienza di un'impresa, chiaramente nel nostro caso di stampo cooperativo. Prima di passare alla presentazione delle imprese che i nostri ragazzi e le ragazze hanno elaborato, è doveroso fare un momento, diciamo, introduttivo e istituzionale che ci permette anche di capire la complessità di questo progetto e di capire quante sono le istituzioni e gli enti coinvolti all'interno di un progetto di questo tipo. Quindi iniziamo con un momento un po' introduttivo dove vado a salutare tutte le persone e gli enti che sono coinvolti all'interno del nostro progetto. Ricordo intanto che Vitamina C è un progetto promosso da Lega Coop Bologna, Conf Cooperative Bologna e Fondazione Barberini ed è realizzato con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il patrocinio dell'ufficio scolastico e l'obiettivo del nostro progetto è proprio quello di coniugare la competenza imprenditoriale col mondo cooperativo. Infatti ricordo anche che per la maggior parte delle classi questo progetto si inserisce all'interno dei PCTO, cioè dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che all'interno delle scuole rappresentano proprio lo strumento per avvicinare i ragazzi e i giovani al mondo dell'impresa, al mondo del lavoro. Quindi questo è il contributo che Lega Coop, Conf Cooperative e Fondazione Barberini danno allo sviluppo della competenza imprenditoriale. Quindi inizio salutando tutte le persone che collaborano per realizzare questo progetto e che sono presenti oggi o in presenza o da remoto. Rita Ghedini, presidente di Lega Coop Bologna, Piero Ingrosso, responsabile delle relazioni esterne, comunicazione, innovazione e progetti, ed Emanuela Gamberini, Daniele Ravaglia, presidente di Conf Cooperative Bologna e di Alleanza delle Cooperative di Bologna, Matteo Manzoni, direttore di Conf Cooperative Bologna e Letizia Fabri. Con molto piacere arriverà tra poco Daniele Ara, assessore alla scuola Nuova Architettatura per l'Apprendimento, adolescenti e progetto scuole di quartiere, educazione ambientale del comune di Bologna e collegato via Zoom sulla nostra piattaforma abbiamo anche Daniele Ruscino, che salutiamo, consigliere delegato per la scuola e l'istruzione, edilizia scolastica e la formazione della città metropolitana di Bologna. Per la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che da anni contribuisce a portare avanti la nostra progettualità, salutiamo e ringraziamo il direttore generale Enrico Ratti e salutiamo Elisabetta Calari, consigliere delegata per le attività di solidarietà sociali e Laura Tieghi, responsabile dei progetti sociali che ci sta seguendo online. Salutiamo Bruno Di Palma, in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale dell'ufficio quinto di Bologna e per la Fondazione Barberini, che promuove appunto insieme a Lega Coop e Conf Cooperative il progetto e che oggi ci ospita qui nella sua sede, salutiamo il direttore Roberto Lippi e Bibi Bellini, che hanno anche guidato la commissione di valutazione dei progetti delle classi. Infine, salutiamo, un bel elenco come vedete, salutiamo le cooperative Tutor, aderenti a Lega Coop e a Conf Cooperative che hanno dato la disponibilità per affiancare le classi nell'elaborazione del business model canvas e delle proprie progettualità, intervenendo all'interno delle classi per aiutare e guidare i ragazzi nell'elaborazione della propria idea. Baumhaus, Coop Reno e con noi c'è Luca Sanzani, Indici Opponibili e con noi c'è Andrea Annalin, Kilowatt e Officina Immaginata, che è collegata via Zoom. Un ringraziamento speciale anche a Open Group e alla responsabile di progetto Cloud Agli Ormetti e a Librazione alla referente Annalisa Gambarrota, che insieme alla sottoscritta ha realizzato i progetti nelle classi. Infine con noi abbiamo anche in collegamento Marco Ansaloni di Assicop, Bologna Metropolitana, che ringraziamo. Direi che abbiamo detto tutti. Bene, a questo punto lascio la parola per un saluto molto veloce, perché abbiamo tante cose da fare, chiaramente i protagonisti oggi sono i nostri ragazzi, ma vorremmo comunque dare un po' la parola per un saluto ai nostri rappresentanti. e quindi iniziamo con Roberto Lippi, direttore della Fondazione Barberini, che appunto ci ospita. Grazie, grazie Margherita. Buongiorno, bentrovati. Per noi è un piacere. Questa è la Fondazione Barberini, la sala convegna. A fianco abbiamo la biblioteca, l'archivio che non si esorisce in questi spazi, ma anche altrove. La Fondazione Barberini è la casa della cooperazione, è un luogo che custodisce gli archivi e la memoria, ma attraverso lo studio e il lavoro sulla memoria si immagina anche pezzi di futuro. È un centro di ricerca riconosciuto dal Ministero della Ricerca e visto anche che sono stato membro della giuria, visto i lavori che sono arrivati, l'augurio che qualcuno di voi possa poi cominciare a frequentare questi spazi e a leggere un po' della nostra storia per immaginarsi un po' di futuro. Grazie. Grazie Roberto. Passiamo ora la parola a Rita Ghedini, Presidente di Lega Copp Bologna. Buongiorno a tutti e a tutti. È un piacere ritrovarsi finalmente, almeno per un po' di noi, in presenza. I numeri che ci sono stati dati all'inizio, i numeri di questi 15 anni, credo dicano da soli le ragioni per cui una organizzazione di rappresentanza della cooperazione come quella che rappresento in questo momento, promuove un'iniziativa nelle scuole. Sono i numeri di una comunità, di una comunità ideale di studentesse, di studenti, di giovani donne e giovani uomini di questo territorio. Noi siamo un'organizzazione di rappresentanza territoriale, fra i nostri compiti c'è quello di promuovere la cooperazione. Che cosa significa? Significa innanzitutto promuovere un'idea. L'idea che facendo insieme, scambiando secondo i principi della mutualità, cioè dell'aiuto reciproco, della contaminazione reciproca delle idee e della solidarietà, si possono dare risposte ai bisogni e che queste risposte ai bisogni non sono solo solidarietà, ma sono imprenditorialità, cioè capacità di farsi carico attraverso un progetto economico e sociale dei bisogni delle persone, dei bisogni di un territorio per produrre ricchezza, per produrre ricchezza, condividerla, distribuirla, migliorare la qualità della vita delle persone, migliorare la qualità dell'ambiente, del lavoro, delle relazioni sociali di un territorio. Voi avete fatto un esperimento in queste settimane, in questi mesi. È un esperimento che noi speriamo sia riproducibile in fasi diverse della vita, nel momento in cui avrete bisogno di trovare un modo, un'opportunità una strada per trovare soddisfazione non solo ai vostri bisogni, ma ai vostri desideri. Credo che la dialettica tra dovere e desiderio sia quella che accompagna tutta la vita delle persone che in particolare quando si studia, quando si è a scuola, ci si chieda sempre se lo faccio perché mi piace o lo faccio perché lo devo fare. La chiudo così. spero che almeno per un pochino in questi mesi l'abbiate fatto perché vi piaceva. Buon lavoro a tutti. Grazie Rita. Passiamo subito la parola invece a Daniele Ravaglia, presidente di Conf Cooperative Bologna e di Alleanza delle Cooperative di Bologna. Anche io ragazzi non posso che dire che sono particolarmente contento di essere qui con voi. L'obiettivo che ha questa iniziativa l'avete sentito dire bene, Magherita è stata puntualissima, bravissima, ha già detto tutto. Io voglio aggiungere soltanto una cosa, la cooperazione. La cooperazione ragazzi è una struttura imprenditoriale modernissima, non pensate che sia superata, che oggi c'è bisogno di altro. C'è da un punto di vista proprio anche giuridico, formazione di società di diverso tipo. La cooperazione ha dimostrato anche in questi due anni o tre anni di pandemia addirittura quanto sia importante nella vita delle persone, quanto siamo in grado come cooperative, come persone di supportare i bisogni primari dei nostri concittadini, di chi sta vicino a noi e non solo. Quanto siamo stati resilienti nel mantenere localmente le produzioni, le attività. Le cooperative non esportano attività, non portano via ricchezza dalle comunità nelle quali sono e quindi danno una grandissima soddisfazione oltre che di natura sociale io credo anche imprenditoriale. In questo periodo si vede bene quanto la resilienza delle cooperative è forte. È uscito da pochi giorni una pubblicazione di Milano Finanze che parla delle prime 500 imprese in Italia, nella regione Emilia Romagna, chiedo scusa. Tra le prime 10 di Bologna e città metropolitana 6 sono cooperative. Questo per dire quanto importante sia la cooperazione a Bologna interessa 80.000 persone, 500 imprese, quindi è veramente un'attività che sta permeando la nostra vita sociale ed è un'attività che punta davvero al bene comune, cosa che certamente altre forme non mirano a questo risultato. ma la cosa bella, la cosa io credo originale che magari non tutti apprezzano, non tutti pensano sia possibile che è coniugare, lo diceva anche la Rita, l'imprenditorialità con la socialità è possibile, si hanno grandi risultati positivi anche da un punto di vista economico, anche di soddisfazione economica. Forse voi non sapete che io faccio un lavoro di un po' particolare che lavoro in banca, ma noi vediamo benissimo quanto siano forti e utili le cooperative da un punto di vista imprenditoriale. La grande ricchezza del nostro paese, della nostra regione, della nostra città è dovuta anche a questo. Quindi l'esperimento che avete fatto, lo studio che avete fatto io mi auguro davvero che vi possa far venire voglia di costituire una cooperativa nel vostro futuro. Credo che sarà un bene per voi certamente che avrete una soddisfazione anche personale di trasmettere dei valori alle persone che vi stanno accanto alle comunità ma lo sarà anche per voi perché da un punto di vista economico avrete grande soddisfazione. Grazie davvero a tutti i miei compagni di viaggio e a chi vi ha seguito in modo particolare in questo momento di formazione. Grazie. Benissimo, grazie anche al Presidente. Passiamo la parola invece da remoto a Daniele Ruscigno, consigliere delegato per la scuola di istruzione, l'edilizia scolastica e la formazione della città metropolitana di Bologna. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti anche da parte mia. Parto anch'io con un grande ringraziamento a tutto il mondo della cooperazione e anche le fondazioni che hanno reso possibile questo importantissimo progetto che ormai migliora di anno in anno ed è diventato un tassello fondamentale anche rispetto a tutte le politiche legate all'orientamento, alla formazione e anche all'apprendimento appunto come già stato richiamato anche sul tema delle competenze trasversali della città metropolitana di Bologna. È già stato ricordato ma vorrei sottolineare il mondo della cooperazione è fondamentale anche perché forse o perlomeno non tutti i cittadini sanno che moltissimi dei servizi fondamentali che vengono erogati alla popolazione sono gestiti dal mondo della cooperazione dabbiamo ce ne siamo accorti anche come era già stato richiamato anche in queste fasi molto difficili delle emergenze sanitarie e quindi è un tassello fondamentale della nostra comunità e quindi bene che va davanti un progetto di questo tipo che allena anche le giovani generazioni ad approcciarsi a questa modalità organizzativa e che possano anche sviluppare le loro idee chiudo naturalmente con un ringraziamento a tutte le studentesse gli studenti e i docenti che hanno partecipato a questo progetto sono molto curioso di vedere i progetti che la commissione la giuria avrà selezionato anche per quest'anno quindi anche loro va veramente tutto il mio grande ringraziamento e grazie per il lavoro che avete fatto grazie anche a Daniele andiamo avanti con il dottor Enrico Ratti direttore generale di Fondazione del Monte che ricordiamo sponsorizza questo progetto grazie anche io ho il dovere di portarvi il saluto della presidente Finocchiaro che avrebbe voluto essere qua ma non ha potuto per precedenti impegni tiene molto alla collaborazione con tutti voi e tiene molto a questa iniziativa ma più che il dovere direi che ho il piacere il piacere che ormai è diventato ibrido perché ormai ci dobbiamo abituare a un mondo in cui saremo sempre metà in presenza e metà in remoto ma insomma voglio dire il fatto che ci si possa vedere già in parte è un grande successo dico solamente una parola sul fatto che gli obiettivi della vostra iniziativa di questa iniziativa sono priorità della nostra fondazione la fondazione in tutti questi anni ha avuto fra le sue priorità la formazione l'educazione lo spirito la creazione dello spirito imprenditoriale quindi siamo proprio esattamente nel centro dei vostri progetti quindi penso che io mi ricordo quando le prime volte che ero in fondazione si chiamava copyright qualcuno la Margarita l'ha ricordato è un po' di tempo che collaboriamo e posso dire senza retorica che mi sento un po' a casa in questo ambito vi ricordo solamente una cosa ricorda tutti noi una cosa che di attualità quindi non c'entra con le cose di principio a fine dell'anno scorso il governo su sollecitazione delle fondazioni bancarie ha istituito un fondo per la Repubblica Digitale si chiama che stanzia 350 milioni per i prossimi 5 anni in via sperimentale ma insomma 5 anni in un paese come l'Italia sono importanti sono tanti per dividere per superare il digital divide il gap digitale che abbiamo all'interno della nostra comunità se si andasse a verificare dalla nostra i nostri indici di capacità di conoscenza sul digitale vedremo che non è un altro di quelli in cui l'Italia non primeggia non siamo i primi in Europa mettiamola così in senso positivo ve lo dico semplicemente perché quel lavoro che avete fatto probabilmente chissà potrebbe diventare utile per riproporsi in termini un pochino più strutturati più forti più importanti per competere con questa sfida che viene lanciata dal governo ripeto appoggiato finanziariamente dalle fondazioni per sviluppare progettualità che faccia in modo che ci sia maggiore conoscenza nel campo digitale e che favorisca l'inclusione digitale di tutti voi vi auguro veramente buon lavoro e soprattutto un grandissimo in bocca al lupo passiamo all'ultimo saluto istituzionale di Bruno di Paola scusate di Palma in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale che si collega da remoto buon pomeriggio a tutti spero mi sentiate sono molto contento di essere presente anch'io oggi come USR come ufficio scolastico regionale in rappresentanza del ministero dell'istruzione noi come USR abbiamo patrocinato l'iniziativa perché la riteniamo preziosissima un valore aggiunto per i nostri studenti mi unisco ai ringraziamenti per Lega Copp per Conf Cooperative per la Fondazione Barberini soprattutto mi unisco ai ringraziamenti anche nei confronti dei dirigenti scolastici dei docenti e dei tanti studenti che hanno partecipato a questa importantissima iniziativa oltre che alla curiosità che diceva prima Daniele Rescigno in merito alla visione dei progetti premiati noi siamo convinti come ministero dell'istruzione che il digitale e la cooperazione siano due cose importantissime non a caso da circa sei anni abbiamo un piano nazionale delle scuole digitali non a caso abbiamo nelle scuole degli animatori digitali non a caso abbiamo in ufficio un servizio Marconi che aiuta le scuole a ragionare di digitale e questo progetto questa questa bella sinergia che si è venuta a creare con gli organizzatori e anche questo evento di oggi ne dice lunga su quanto sia importante anche l'aspetto della cooperazione non a caso qualche economista faceva una bella distinzione tra cooperazione e competizione dicendo che la seconda ha anche qualche effetto collaterale mentre la cooperazione non ne ha è semplicemente uno strumento per lavorare assieme uno strumento per dare una competenza chiave quella dell'imprenditorialità soprattutto una competenza per la vita che i nostri ragazzi sfrutteranno sicuramente a dovere non voglio essere lungo perché i protagonisti sono i ragazzi mi limito semplicemente a concludere dicendo che nell'ambito dei PCTO che citavano che vi citavate prima cioè i progetti i percorsi per le competenze transversali per l'orientamento è fondamentale questa sinergia tra aziende tutor d'azienda e tutor delle scuole quindi approfitto per ringraziare anche coloro i quali hanno fatto da tutor e mi metto in ascolto ringraziando ancora una volta sia tutti gli organizzatori sia gli studenti i docenti e anche tutti gli altri partner grazie benissimo allora ringraziamo davvero tutte le persone che sono intervenute perché hanno saputo condensare in poche parole chiave quello che effettivamente noi insieme ai ragazzi abbiamo vissuto mi sono segnata un po' un po' di cose perché parto proprio dall'ultimo intervento si è parlato di competenze per la vita di competenze trasversali se ricordate voi ragazzi che c'eravate il nostro progetto parte proprio da questo parte da una riflessione sulle competenze sulle soft skills come punto di partenza per orientarsi e prendere consapevolezza rispetto al proprio futuro e quindi speriamo davvero che questo progetto in qualche modo in un futuro vi venga in mente per quanto riguarda quelle che sono le competenze che potreste aver scoperto o allenato o sperimentato all'interno di questo progetto avete citato le competenze digitali il digital gap noi abbiamo fatto strumento in qualche modo degli strumenti digitali che volenti o nolenti abbiamo messo in campo negli ultimi due anni per tenerci in campo con questo progetto nonostante l'emergenza sanitaria e quest'anno che siamo potuti tornare in classe abbiamo deciso di mantenerli e di potenziarli proprio perché rappresentano un elemento fondamentale nello sviluppo poi futuro delle competenze appunto professionali che sono richieste dal mondo del lavoro si è parlato chiaramente di imprenditorialità il nostro progetto si ispira all'Entrecomp si ispira al framework europeo per la competenza imprenditoriale quindi teniamo tantissimo al fatto che questo sia proprio un allenamento verso l'imprenditorialità e si è parlato chiaramente di sfide di cooperazione e parto dall'intervento di Rita Aghedini che era partita proprio dai bisogni le idee di impresa che tra poco ci presenteranno i ragazzi sono partite da una riflessione sui bisogni bisogni individuali bisogni collettivi e locali percepiti dai target che i ragazzi stessi rappresentano quindi tante idee nascono proprio da quelli che sono i bisogni dei giovani ma poi anche uno sguardo più globale quindi i bisogni collettivi dell'umanità con una riflessione sull'agenda 2030 tutte le classi infatti hanno inserito all'interno della propria presentazione della propria riflessione un riferimento a quali sono i target a cui tentano di rispondere con l'elaborazione della propria impresa bene ho parlato abbastanza passiamo ai protagonisti di questa edizione allora abbiamo qui il liceo Arcangeli di Bologna con la terza L il liceo il liceo Galvani di Bologna che è rappresentato dall'interclasse l'istituto Malpighi che è collegato in remoto da Crevalcore l'istituto Rosa Luxemburg di Bologna e l'istituto Salvemini di Casalecchio prima l'ultima cosa prima di darvi la parola ancora un po' di suspense abbiamo pensato di introdurre soprattutto per chi non c'era di introdurre le vostre presentazioni con un breve video che racconta un po' quello che è successo nelle classi quindi con questo piccolo video così a tradimento a sorpresa con le vostre interviste che non ricordavate di aver fatto vi facciamo vedere appunto raccontiamo soprattutto a chi non c'era che cosa è successo all'interno delle classi questo video poi sarà visibile anche sulla nostro canale YouTube sulle nostre pagine insomma sul nostro sito insieme alla registrazione di questo evento quindi lascio vi lascio la visione del video tra di loro erano poco collaborativi e ho pensato che questo progetto potesse essere un modo per creare assieme anche un legame al di là poi dell'aspetto scolastico come creare un'azienda da zero io penso che questo percorso sia stato anche un po' da attuare però è stata anche una bella esperienza siamo entrati in un'azienda e abbiamo cominciato proprio a lavorare come se fossimo tutti un unico gruppo di lavoro abbiamo pensato di basarci su qualcosa di sostenibile per la comunità per l'energia pulita utilizziamo dei pannelli solari che si spostano a seconda della posizione del sole sono felice è uscito un bel progetto sono stati molto creativi l'idea anche che una cooperativa nasce proprio da soci che si mettono assieme e creano qualcosa in cui credono ogni classe in base all'idea di impresa può confrontarsi direttamente con una cooperativa tutor una catena di locali di prodotti salutari o comunque vegetariani vegani tenete conto che tendenzialmente i costi del personale sono quelli più importanti anche quelli dell'immobile perché sono quelli fissi tutta la parte consulenziale tecnica sarete voi tutti i soci i lavoratori ci siamo chiesti con il nostro gruppo come relazionarci quali canali utilizzare anche per la comunicazione secondo me è un'esperienza molto bella anche se molto difficile infatti abbiamo avuto alcune difficoltà per esempio metterci d'accordo su quale attività scegliere è più stimolante di lavorare da soli perché hai anche altri pareri pareri anche diversi dal tuo ci ha aperto uno sguardo anche sul mondo del lavoro nonostante a scuola non si affrontino spesso argomenti del genere questa idea è nata dalla mia passione nell'ambito della moda e si occupa di sponsorizzare le piccole e le medie imprese per i loro prodotti in un mercato più ampio e più basso mi hanno incaricato di fare la presidente di questa azienda cooperativa è stata abbastanza facile mi è piaciuto è un'azienda cooperativa che potrebbe realmente esistere e che potrebbe offrire servizi comunque reali la cosa più interessante che ho affrontato è stato come da un'idea può nascere un vero progetto questa esperienza per noi è stata ed è molto importante perché ci dà modo di fare un approccio più di laboratorio a tutti gli argomenti che noi andiamo a trattare sul mondo dell'impresa dà modo anche ai ragazzi di sperimentare una loro partecipazione attiva è stata un'esperienza positiva per me come insegnante vedere loro mettere davvero in pratica quello che facciamo sarebbe una cosa bella lavorare in questo ambito è un ambito che mi piace molto e spererei di poterci lavorare in un futuro è importante questo progetto perché aiuta a realizzare una cooperazione tra ragazzi i ragazzi si uniscono in gruppi e hanno così un obiettivo finale da perseguire tutti insieme noi facciamo parte del gruppo Ufficio Soci ci occupiamo della relazione tra i vari soci ognuno di noi ha avuto modo di esprimere la propria opinione e di votare quale secondo lui era l'idea vincente creare un'app che mette in comunicazione il comune e i cittadini attraverso questionari poi ci siamo divisi in gruppi e lì ognuno ha lavorato a contribuire nella realizzazione dell'impresa e poi da lì andiamo tutti insieme a confrontarci tra di noi però non abbiamo dei capiti è interessante riuscire a crearsi da soli ciò che si vuole fare nel futuro oggi i ragazzi erano molto motivati soprattutto nel capire come il progetto abbia diverse tappe tra cui quella di capire l'azione l'obiettivo principale concreto da attuare ho trovato i ragazzi molto interessati e li ho visti proprio concretamente progettare una loro realtà cooperativa con l'aiuto dei tutor di vitamina C all'interno della nostra classe noi abbiamo creato questo progetto una cooperativa che si chiama World Animation Crew un'impresa volta a diffondere una maggior sensibilità in particolare verso l'ambiente mediante la realizzazione e la vendita di prodotti multimediali che possono essere video animati servizi di foto editing o anche spot pubblicitari abbiamo imparato anche a usare vari tipi varie app per creare dei volantini e fare anche delle animazioni ho scoperto cose anche solo riguardo le imposte vitamina C mi ha fatto capire l'importanza comunque di comunicare all'interno di un qualsiasi lavoro di gruppo che possa essere anche dalle basi il lavoro scolastico appunto in un possibile futuro un'impresa ce la stanno mettendo tutta e stanno attivando il loro spirito collaborativo per presentare meglio questo progetto davanti alla commissione di un'impresa Bene, penso che vi sia piaciuto rivedervi e ripercorrere insieme questo percorso che è stato decisamente denso anche di difficoltà tra quarantene, incontri rimandati, problemi di connessione, limiti anche nel realizzare lavori di gruppo in presenza. Però insomma è stato come sempre, come ogni anno è stato molto bello e quest'anno ancora di più per il fatto che siamo ritornati in classe. Bene, adesso passiamo davvero alle vostre presentazioni, quindi vi ricordo velocemente le tempistiche, non prendete esempio da noi che siamo già in ritardo, in realtà dai, solo di pochi minuti, circa otto minuti a classe per la presentazione, andiamo in rigoroso ordine alfabetico e quindi partiamo dal liceo artistico Arcangeli. Allora, la classe terza L, con indirizzo multimediale, accompagnati dalla professoressa Azzurra Confente e dalla cooperativa Tuto Archilovat, ha ideato l'impresa cooperativa World Animation Crew. Presentano il progetto Nicola Scandale, Elisa Marchi e Tasnova Khan, giusto? Prego, venite pure. Allora, noi appunto siamo gli studenti della ricerca artistica Arcangeli, abbiamo deciso di concentrarci anche noi come gli altri sull'agenda 2030, quindi principalmente abbiamo preso a cuore il problema del cambiamento climatico e appunto ci siamo dedicati principalmente a questo, andando alla salvaguardia dell'ambiente, andando a sviluppare questa cooperativa. Ok, Elisa, vai pure tranquilla, quindi partite pure dicendoci di che cosa si occupa la vostra impresa. Allora, la nostra impresa si occupa di produrre prodotti multimediali, quindi foto editing, video editing, animazioni, cortometraggi e così via, pronti a promuovere appunto la salvaguardia dell'ambiente. Tutto ciò lo facciamo tramite anche prodotti eco-friendly, diciamo così. Quindi utilizziamo pannelli solari, cerchiamo di inquinare il meno possibile l'ambiente. Diciamo che più o meno l'obiettivo della nostra cooperativa si può riassumere nell'ultima riga della nostra presentazione, sensibilizzare i spettatori ad un mondo più pulito appunto. Allora, noi con questo lavoro eravamo divisi in vari gruppi, ad esempio nel gruppo dove c'ero io, che era il gruppo comunicazione, avevamo questo compito di creare un logo e anche un sito web, che adesso lo faremo vedere, che si chiama World Animation Crew, dove abbiamo messo le informazioni riguardo alla nostra cooperativa e di come possono contattarci e abbiamo scritto anche cosa facciamo, quindi abbiamo scritto anche delle informazioni su di noi. dove abbiamo messo anche il sito di Instagram che abbiamo creato, dove abbiamo messo anche il nostro volantino che è stato creato e abbiamo scritto anche informazioni dove ci possono contattare e come ci possono contattare. In seguito il nostro gruppo di risorse partner si è appunto occupato di, oltre a calcolare i materiali necessari, anche a pensare a diversi partner con cui effettuare appunto partnership per promuovere le animazioni, i vari video editing, magari anche tra i vari partner appunto, vado avanti, abbiamo segnato i partner come Tridon, Marevivo, che sono cooperative di raccolta fondi alla quale devolvere parte del ricavato delle nostre attività. Questo qui è il nostro organigram che spiega più o meno come ci siamo divisi nei vari gruppi. In seguito il nostro ufficio soci si è occupato della modulistica e di determinare più o meno la tipologia di dipendenti da assumere, solamente che purtroppo il nostro archivista si è scordato di girarci i vari moduli, quindi non possiamo farveli vedere. ed infine il nostro gruppo di amministrazione si è occupato di calcolare i vari guadagni e perdite dei nostri prodotti, come segnate una tabella appunto che ho aperto. Quelle due? Quelle due? Quelle due? No, noi non sappiamo niente, purtroppo non abbiamo rappresentanti del gruppo amministrazione qui. Noi siamo comunicazione, attività e valori ed infine due dell'ufficio soci. Questo più o meno conclude la nostra breve spiegazione sul... Grazie mille ragazzi, aspettate un attimo. Allora intanto grazie che avete rotto il ghiaccio, perché nessuno delle altre classi mi invidia in questo momento che siete stati i primi a parlare e dalla vostra presentazione si è capito bene come le classi hanno lavorato, quindi sono stati suddivisi in gruppi ragazzi appunto, qua ci sono i rappresentanti del gruppo comunicazione, delle risorse partner, attività e valore, l'amministrazione e l'ufficio soci che diciamo è un'aggiunta che all'interno del nostro progetto facciamo proprio per dare un taglio cooperativo a quello che è il business model canvas che tutte le imprese utilizzano. Prima di farvi sedere vi chiedo se è stato facile o difficile lavorare in gruppi, visto che appunto si è visto bene qual è stato un po' il prodotto dei vari gruppi. Com'è stato? Magari avete anche esperienze diverse, per qualcuno è stato facile, per qualcuno è difficile. Io che ho dovuto lavorare come vicepresidente della cooperativa ho trovato molto difficile fare questo compito perché c'erano un po' di problemi tra i diversi gruppi, non si parlava molto ma poi dopo un po' siamo riusciti comunque a comunicare tra di noi, anche se ci sono volute un po' di lezioni, però alla fine è uscito un lavoro che almeno a me ha soddisfatto fare, mi ha soddisfatto finire il lavoro per bene e anche avere questo ruolo abbastanza importante, è stata una bella esperienza, diciamolo così. Bene, grazie mille ragazzi, tornate pure al posto. Insomma sicuramente chi ha, come ha avuto Elisa, nelle classi il ruolo di vicepresidente o presidente comunque di mediatore, diciamo dei gruppi, ha sperimentato la competenza della negoziazione, che tutti noi che lavoriamo sappiamo essere fondamentale in qualsiasi occasione. Nel frattempo mi dicono dalla regia che siamo oltre i 40 collegamenti da casa e nel frattempo abbiamo il piacere di avere con noi Daniele Ara che è il nostro referente per, scusate, l'assessore alla scuola. Quindi lo chiamiamo, chiedo scusa, mi sembrava che si fosse infilato di là, prima lo cercavo. Chiedo scusa, assessore alla scuola, nuove architetture per l'apprendimento, adolescenti, progetto a scuole di quartiere, educazione ambientale del comune. Va bene, grazie. No grazie, io mi scuso veramente, ho cercato di incastrare questo momento tra varie cose e poi abbiamo avuto una piccola emergenza, poi sono cose normali, quindi è veramente solo un saluto. Sì, vengo come assessore alla scuola, in realtà anche le altre deleghe hanno sempre molto a che fare anche col mondo cooperativo. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori, il mondo cooperativo per questa opportunità che viene data alla scuola e le scuole che hanno questa capacità importante nella nostra città di saper cogliere progetti e opportunità. Tanto a me fa molto piacere quando vedo licei insieme agli istituti tecnici, perché è un lavoro importante che stiamo cercando anche dal punto di vista culturale, che abbiamo un po' creato questi due percorsi diversi, quando in realtà chi fa liceo ha bisogno anche di pensieri tecnici e chi fa gli istituti tecnici ha anche bisogno di andare a teatro, come dico sempre. Sono progetti importanti, il tema ovviamente è apprendere cosa significhi il mondo cooperativo, fare una cooperativa, credo che stia tornando di estrema attualità rispetto alle sfide che abbiamo davanti, lo dico ai ragazzi, insomma, nuovi lavori sul welfare, sulla gestione sostenibile delle attività produttive, insomma, ci sono margini, credo, per un certo tipo di imprenditoria molto importanti ed è affascinante, insomma, capire come i nuovi lavori possono essere in qualche modo, le nuove opportunità possono essere colte anche con la modalità cooperativa, che è una modalità ovviamente nobilissima, che ha fatto anche un elemento distintivo della nostra città, della nostra regione, anche dal punto di vista della coesione sociale, per l'alleanza tra il lavoro e il capitale, diciamo così. E l'altra cosa secondo me importante è che girandone nelle scuole i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno in questi anni complicati c'è un grande bisogno di appassionarsi alle cose, cioè che noi adulti sappiamo trasmettere un po' di passione, come dire, che accendiamo un po' di scintille, perché troppe volte, forse è capitato a ognuno di andare a scuola, cioè dobbiamo avere le motivazioni invece a scuola, ci annoiamo, i miei desideri non vengono troppo ascoltati, gli insegnanti giustamente magari hanno altri tipi di difficoltà nella relazione, quando invece penso che abbiamo bisogno di portare molte attività che ci appassionino, ma che appassionino anche nella relazione tra i ragazzi e gli adulti, gli insegnanti o chi dall'esterno va a fare questo pezzo di scuola. Per cui vi ringrazio perché ho visto un attimo la presentazione, ma ho capito che si è entrati veramente bene nella parte, appunto cercando di cogliere il senso di quello che si sta facendo, e credo che questi sono progetti che rimangono. Grazie. Grazie mille. Torniamo quindi a dare la parola ai ragazzi con il liceo Ginnasio Galvani. Sono qui con noi Beatrice Manaresi e Giovanni Pascucci, che rappresentano un gruppo interclasse, in realtà, accompagnati dalla professoressa Maria Alboni e dalla cooperativa Tutor Copreno. Hanno ideato l'impresa cooperativa Grink. Vi lasciamo la parola. Buon pomeriggio a tutti. Noi siamo i rappresentanti dell'impresa cooperativa Grink del liceo Luigi Galvani di Bologna. La nostra idea si basa sulla creazione di un fast food, di prodotti salutari e leggeri, attraverso la vendita di prodotti sfusi. Un fattore molto importante per noi è anche l'ambiente e utilizzando appunto questa metodologia di prodotti sfusi evitiamo, per esempio, gli imballaggi, che sarebbero uno spreco inutile di plastica. Prediligiamo prodotti a chilometro zero provenienti non da produzioni intensive. Il nostro target è principalmente quello di giovani sportivi, infatti i nostri locali sono situati principalmente vicino a palestre e appunto associazioni sportive. Per quanto riguarda le risorse partner iniziamo dall'associazione di categoria che ci forniscono specialisti e consulenza che sarà soprattutto utile quando sarà il momento di avviare la nostra impresa. Per le risorse umane invece avremo bisogno di biologi, chimici, cuochi, professionali e non, come vedremo in seguito, e camerieri, agricoltori e consulenti appunto per i prodotti sfusi. Le risorse finanziarie invece riguardano principalmente i bandi per l'agricoltura che ci saranno utili e appunto nel momento in cui sarà da avviare la nostra impresa e anche perché il mercato dei prodotti sfusi è abbastanza particolare, non molto diffuso e per noi una parola chiave è reinvestire. Le risorse strumentali invece che ci serviranno principalmente sono il terreno coltivabile, macchinari a pannelli solari in modo da abbattere l'impatto ambientale e fertilizzanti alberi da frutto. I nostri partner principali sono specialisti come per esempio nutrizionisti, contadini ma anche non specialisti come per esempio studenti provenienti da istituti agrari e professionali che avranno anche la possibilità per esempio di aiutare come dicevo prima anche nella cucina. Inoltre dei partner fondamentali saranno i centri sportivi che appunto aiuteranno la plus del nostro pubblico. Allora per quanto riguarda la comunicazione noi abbiamo un obiettivo che è quello di raggiungere un pubblico più ampio possibile e per farlo useremo dei mezzi che sono ovviamente i social network. I social network come Instagram è il più famoso oppure anche TikTok e Snapchat per i più giovani o Facebook per i più adulti e verrà utilizzato anche Pinterest per far capire appunto con maggior facilità la nostra estetica che sarà caratterizzata da colori della natura armonia, gusto e freschezza. Infatti cerchiamo di trasmettere ciò che attraverso i nostri post e quindi posteremo solo non foto di cibo ma anche dell'ambiente circostante essendo un ambiente verde comunque naturale. Facendo un'analisi di mercato dopo delle ricerche approfondite siamo arrivati alla conclusione che la nostra cooperativa è unica nel territorio bolognese quindi non c'è grande preoccupazione di vari concorrenti e i nostri clienti appunto come detto prima sono giovani studenti sportivi ma anche adulti. Parlando dell'ufficio soci allora l'ufficio soci ha la funzione di formare l'atto costitutivo quindi partendo dal nome il nome è Grink ovvero una fusione tra drink e green ovvero indichiamo una bevanda naturale ma anche sostenibile. I partecipanti sono appunto i partecipanti al progetto di vitamina C che sono stati divisi in gruppi il comune di sede è Bologna è importante dirlo perché ci darà la possibilità nel nostro caso di usufruire di particolari tipi di prodotti del luogo e poi ovviamente il consiglio di amministrazione e il tipo di cooperativa. Inoltre l'ufficio soci convoca l'assemblea dei soci che esprime la volontà sociale che poi viene attuata dall'organo amministrativo quindi è essenziale per la corretta inclusione di tutti i soci e soprattutto garantire il benessere nella cooperativa. Parlando per ultimo di amministrazione abbiamo visto varie spese e abbiamo visto anche come sono abbordabili per avviare la nostra cooperativa per prima ovviamente l'affitto del posto che parte da 850 a 1500 euro ma sono superabili ovviamente se la posizione dovesse essere più favorevole. Inoltre c'è l'allestimento del negozio quindi i materiali legne e plastiche ovviamente riciclati perché siamo un'azienda sostenibile e le strutture quindi i scaffali i tavolini di decorazione i fondamentali quindi le casse le insegna per aprire un negozio ovviamente e sarà intorno ai 25.000 euro. L'assicurazione poi scoppio incendi e furto un minimo di 20 massimo di 100 e la pubblicazione la pubblicizzazione come abbiamo detto prima quindi i social e sarebbe opportuno anche assumere un social media manager. La realizzazione poi di un sito web ambientale no aziendale che sarebbe opportuno appunto assumere dei professionisti e la spesa sarebbe compresa fra i 1000 e i 3000 euro. Le utenze che variano a seconda del gestore l'iscrizione all'IMS quindi intorno ai 3613 euro su 4 rate annuali l'iscrizione all'INA che è obbligatoria per tutti i commercianti il commercialista che si occupa di condurre la maggior parte delle pratiche costitutive dell'attività e che avrebbe anche un costo abbastanza ingente all'inizio e poi si durerebbe durante l'anno e l'iscrizione alla camera di commercio quindi i costi uscirebbero tra i 250 e i 300 euro tutto questo per dire che comunque staremmo in un budget avendo inizialmente i soci dato una quota iniziale quindi sarebbe possibile attuare la nostra cooperativa. Fatto. Grazie. Mi chiedo qual è stata la parte più difficile del progetto visto che il Galvani essendo appunto in interclasse ha realizzato il progetto online quindi chiaramente per loro è stato forse più complesso su certi aspetti appunto il coordinarsi tra gruppi o altro e anche il fatto che magari non vi conoscevate tutti però appunto diteci poi pure. Sì per me la cosa più difficile è stata il fatto che siamo partiti formando un gruppo proveniente da moltissime classi e quindi eravamo molto frammentati e non ci conoscevamo molto quindi il momento di avviamento del progetto è stato abbastanza complicato proprio perché appunto c'erano delle barriere magari di timidezza che erano difficili da battere. Eravate molto rispettosi l'uno degli altri in realtà durante gli incontri infatti l'idea se ricordo bene poi in realtà è nata anche un po' da un mash up tra più idee che erano emerse inizialmente quando c'era stata la condivisione dei bisogni insomma anche per inglobare un po' tutti quindi in realtà era comunque un gruppo molto inclusivo e invece la parte più interessante o utile che ritenete utile del progetto qual è stata? Allora secondo me la parte più utile è stata il fatto che comunque a scuola non siamo soliti a immergerci così tanto nel mondo del lavoro mentre in questo caso comunque siamo anche usciti dal proprio faccio personalmente il liceo classico e non ho mai visto non ho mai sentito parlare di queste cose quindi sono state proprio nuove conoscenze che che si sono aggiunte è stato molto bello per me conoscere queste cose nuove Benissimo grazie mille allora andate pure benissimo allora grazie al Galvani adesso passiamo la parola invece all'istituto Malpighi che ci segue che presenterà in remoto chiediamo alle ragazze che ci stanno seguendo in remoto e che devono presentare quindi di attivare la webcam e l'audio in modo che come da accordi riescano a presentare le proprie il proprio lavoro intanto vi do alcuni dati stiamo parlando dell'istituto tecnico Malpighi della sede di Crevalcore la quarta TAM indirizzo moda accompagnati dal professor Paolo Forni e dalla cooperativa Tutor Officina Immaginata e ci presentano l'impresa cooperativa Direzione Democrazia e le ragazze che presentano in remoto le studentesse che presentano sono Anna Barbieri Asia Bigoni Paola Militare e Chiara Ronconi buongiorno 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 io sono Anna e sono della classe quarta dell'istituto moda del tecnico e oggi vi presentiamo la nostra società cooperativa che abbiamo chiamato Direzione Democrazia e come vediamo dal logo intanto riprende i colori del Bologna che è il comune a cui noi ci siamo affidati o comunque insomma il nostro riferimento è Bologna perché siamo basati nella sede di Crevalcore nel territorio di Crevalcore e poi come vediamo dal logo ci sono due soggetti che comunicano in maniera diretta perché è proprio quello che offriamo noi noi offriamo al comune un servizio online per comunicare tra i cittadini e l'amministrazione comunale infatti sarebbe il nostro progetto una pagina in più nel sito comunale dove le persone o l'amministrazione comunale possono andare lì e in una finestra apposita scrivere proposte oppure idee per oppure chiedere spiegazioni di alcune proposte sì proposte fatte dal dal comune o dei cittadini verso il comune di fianco ci sarebbe poi la casella con poi le risposte che verranno date intanto ci siamo comunque guardati un po' intorno guardando insomma cosa offrisse la concorrenza e non abbiamo trovato nulla che offrisse tutte le nostre proposte che abbiamo dato quindi siamo abbastanza tranquilli sul avere un po' campo libero su riuscire a farci un po' di spazio nel fra le aziende passo comunque la parola alla mia collega buongiorno io sono Chiara e faccio parte del consiglio d'amministrazione i nostri clienti come è stato detto prima sono il comune di Crevalcore che fa parte dell'unione delle terre d'acqua che è un'unione a cui appartengono molti comuni tra cui appunto quello di Crevalcore la provincia di Bologna e la regione Emilia Romagna e al momento abbiamo solo questi clienti ma abbiamo intenzione di ampliare la nostra attività e per la nostra sede abbiamo guardato ci siamo affidate a immobiliare.it e abbiamo trovato un immobile in via Matteotti a Crevalcore e poi ci siamo anche affidate a Microsoft per i vari software e MediaWorld per i computer e tutte le attrezzature tecnologiche e per il resto dell'arredamento della nostra sede invece abbiamo fatto affidamento a Ikea e passo la parola alla mia collega Buongiorno sono Asia Bigoni e faccio parte dell'amministrazione e quindi io sono qui per appunto spiegarvi questo slide in cui vi spiego i ricavi e i costi e le previsioni utili e quindi la nostra azienda cercherà di trovare enti finanziatori che facciano capire come possono finanziarci al meglio e trovare più bandi possibili specialmente bandi sulla comunicazione e poi ci sarà all'interno un sviluppo del sito attraverso un consulente o attraverso a un dipendente o un collaboratore interno all'azienda e una consulenza regale per il trattamento dei dati sensibili e il nostro cliente appunto è il Comune di Crivalcore e l'Unione delle Terre d'Acqua in cui fa parte anche il Comune di Crivalcore e i ricavi sono contributi dai clienti pubblici come il Comune di Crivalcore appunto e la Regione della Romagna passo la mia parola alla mia compagna Salve sono Paola e da come noi per dare la pubblicità al nostro progetto per migliorare e per farsi conoscere usiamo vari social come Facebook Twitter YouTube Instagram e per far riconoscere anche vari band passo la parola a mio collega ad Anna e questo è un po' l'organigramma come eravamo organizzati noi che abbiamo presentato siamo il Consiglio di Amministrazione e come Presidente abbiamo Chiara Ronconi nel marketing eravamo divisi in cinque gruppi marketing e vendite amministrazione approvvigionamento ricerca e sviluppo gestione risorse umane e siamo riusciti ad organizzarci bene anche se siamo arrivati comunque con qualche difficoltà alla fine per vari problemi che abbiamo riscontrato ma siamo comunque molto soddisfatti ringraziamo poi chi ci ha permesso di fare questo questo progetto ringraziamo anche Margherita e Annalisa che ci hanno seguito tutto il tempo e hanno sempre cercato di aiutarci al massimo e ringraziamo anche il preside e i professori Grazie ragazze se riuscite a rimanere un attimo in video vi faccio anche a voi una domanda e anche a voi chiediamo se vi va di dirci una cosa che vi è piaciuta del progetto e che vi è servita e pensate che vi possa servire per il futuro se c'è non so inizio secondo me è stato molto bello il fatto che ci si sia aperta una strada davanti a qualcosa di più grande che comunque la scuola non ci offre quotidianamente quindi il mondo del lavoro ci ha proprio aperto gli occhi a questo mondo ok quindi secondo me è stato molto importante è molto interessante fare questa attività che ci ha appunto ci ha illustrato come era il mondo del lavoro benissimo grazie Aurora va bene allora sì sono Asia ma sono entrata con un altro profilo scusate ok scusa va bene allora salutiamo anche il Malpighi e vi ringraziamo per il vostro lavoro e passiamo ora invece da questa parte alla terza CR indirizzo economia commerciale dell'istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg accompagnato dalle docenti Antonietta Marra e Graziella Giorgi oggi abbiamo anche la preside presente che ringraziamo e accompagnati anche dalla cooperativa Baumhaus come cooperativa tutor i ragazzi hanno ideato l'impresa cooperativa Rosem e Comoda presentano il progetto Martina Lacchei Matteo Martelli e Simone Cecchini vi torna? ok venite della classe terza CR e la nostra idea è stata quella di creare un'impresa cooperativa basata sulla moda che offre ai nostri clienti dei servizi sulla moda ecosostenibile e sulla moda salve buongiorno allora vai avanti ok allora uno dei primi servizi che offriamo come impresa cooperativa è un team di specializzati ed esperti ai nostri ai nostri possibili clienti e inoltre forniamo corsi e in generale sulla moda e sulla moda ecosostenibile sempre i nostri clienti che sono delle imprese piccole medie emergenti nella località di Bologna e ragazzi giovani ai quali ad esempio forniamo corsi e quali ad esempio anche corsi alla lotta alla contraffazione ma anche imprese già emergenti nel mondo della moda e infine organizziamo mostre eventi ma anche partecipiamo a fiere per pubblicizzare la nostra impresa cooperativa e per soddisfare i bisogni dei nostri clienti e dato che offriamo corsi sulla moda ecosostenibile e abbiamo deciso di fare capo all'agenda 20-30 al goal numero 8 al goal numero 12 il goal numero 8 che parla di un lavoro dignitoso e di una crescita economica di conseguenza di darla possibilità alle imprese piccole e medie della località di Bologna di inserirsi nel mondo della competitività della moda in questo caso e al goal numero 12 ovvero quello di un consumo e una produzione responsabile in questo caso appunto della moda ecosostenibile e una cosa che ci può andare a favore è il nostro saper lavorare in gruppo diciamo siamo riusciti a lavorare molto bene in gruppo e riusciremo a soddisfare i bisogni dei nostri clienti ecco allora la nostra impresa è divisa in vari settori in base all'ambito in cui lavoriamo e ognuno di questi settori ha un suo responsabile e questi responsabili appunto si riuniscono tutti in sede comune scelta da noi mentre per gli altri dipendenti abbiamo optato per lo smart working con l'attrezzatura fornita da noi per appunto rendere il miglior modo possibile il lavoro e abbiamo inoltre creato un sito web una pagina instagram e facebook appunto per permettere ai nostri clienti di contattarci in più modi possibili allora a voi ragazzi visto che avete scelto come altre classi in realtà un progetto che è un po' in linea con quello che è il vostro che è il vostro indirizzo e vi chiedo se c'è qualche competenza particolare che pensate di aver sviluppato o che avete scoperto magari avevate già e avete realizzato insomma che potevate instradarvi rispetto a quella competenza allora sicuramente abbiamo imparato a lavorare in gruppo che in realtà secondo me prima di questa esperienza non riuscivamo del tutto a fare e abbiamo imparato competenze sull'impresa in generale sulla cooperativa e ci è piaciuto molto questo progetto perché è un argomento che io personalmente ma anche altri compagni della nostra classe e vorrebbero portare avanti anche dopo le superiori cioè principalmente la moda ecosostenibile e la moda in generale bene quindi sicuramente la forma cooperativa potrebbe essere una strada insomma che questo progetto potrebbe prendere va bene grazie ancora complimenti bene chiudiamo con l'ultima scuola che è la classe quarta R dell'istituto tecnico commerciale Salvemini accompagnati dalla professoressa Serena Iello e dalla cooperativa tutor indici opponibili la classe ha ideato l'impresa cooperativa Recycle Your Life con il prodotto trap o troop alla fine trap presentano il progetto le studentesse Chiara Benedetti Martina Orlando Alessia Più Giorgia Ricò e Veronica Zanni la nostra cooperativa si chiama Recycle Your Life e ci impegniamo a semplificare le operazioni di smaltimento e differenzazione dei rifiuti siamo una cooperativa innovativa perché utilizziamo materiali innovativi e sostenibili come il Pomeco B e la nostra idea è quella di una comunità più sostenibile Nel mondo d'oggi ci sono molti problemi come l'incremento di materiali da smaltire come troviamo molti ristuti nei mari che portano anche portano rischi anche gli animali marini l'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico come possiamo vedere al giorno d'oggi come per esempio un giorno è molto più caldo quindi possiamo uscire utilizzando una maglietta a maniche corte mentre il giorno dopo è molto più freddo quindi usciamo con una giacca più pesante e queste immagini rappresentano appunto le problematiche che abbiamo appena visto nella slide precedente e possiamo notare che il cambiamento climatico è molto aumentato e soprattutto il giorno d'oggi continuerà ad aumentare in futuro e quindi dobbiamo dare tutti una mano per utilizzare dei mezzi più sostenibili abbiamo degli obiettivi principali che sono quello di intensificare il numero dei clienti grazie alla semplificazione delle operazioni e abbiamo quello di garantire un'efficienza massimale della differenziata e assicurarsi che l'obiettivo finale della nostra cooperativa sia quello di avere una sostenibilità aziendale maggiore ci differenziamo dalle altre imprese per vari punti tra cui l'attenzione estrema alla sostenibilità soprattutto perché dopo varie ricerche abbiamo trovato un prodotto che è sia innovativo anche resistente dato che il nostro prodotto si concentra nel mettere i rifiuti in un unico contenitore e quindi abbiamo pensato ad utilizzare il Pomeco B che è un nuovo prodotto una specie di plastica riciclata che è appunto resistente anche all'umidità e un altro dei nostri punti di forza è l'approccio all'agenda 20-30 come tutte le altre scuole e i nostri punti di riferimento sono stati il numero 7 11-12 che sono appunto l'energia pulita accessibile soprattutto perché noi utilizziamo i pannelli solari e abbiamo anche inoltre una sorta di connettore che permette all'edificio a cui è collegato di utilizzare l'energia che magari i pannelli solari prendono in più e quindi poi trasmetterli a quelli edifici lì un'altra importante cosa da dire è che noi abbiamo un'attenzione particolare alla collaborazione infatti come per esempio con l'Era la Cop e questo per espandere anche la conoscenza del nostro prodotto alle varie scuole imprese eccetera ok la nostra tipologia di clientela si basa su un'etra compresa tra i 25 e i 50 anni e può essere il nostro bidone utilizzato dalle femiglie anche dalle imprese dalle scuole e dai centri commerciali in diverse grandezze per avere una relazione con i clienti abbiamo scelto di utilizzare i social media come twitter e instagram instagram utilizzando anche storie e sondaggi e i messaggi per interagire il più possibile con i nostri clienti e spotify è un canale non solo di musimca ma anche per trasmettere pubblicità e quindi era più conveniente rispetto anche alle radio torno io scusate allora questo è il nostro prodotto allora si può notare come avevo detto prima che ci sono i pannelli solari per l'energia più sostenibile possibile inoltre poi abbiamo messo anche un cassetto manuale per facilitare magari lo smaltimento di piccoli rifiuti e oltre a questo c'è la lettura del codice della tessera poiché essendo magari che noi l'abbiamo pensato soprattutto per i condomini per gli ospedali per le scuole e per i condomini quindi stavamo pensando che magari tutti i passanti possono buttarci lì dentro cosa che poi diventerebbe molto impegnativa e quindi abbiamo incentrato l'attenzione anche a far sì che soltanto i veri utilizzatori la possano appunto utilizzare il più possibile inoltre lo smaltimento ci pensiamo noi perché lo portiamo poi in un magazzino e poi lo portiamo noi alla discarica in modo anche da avere quell'incentivo che la discarica offre e quindi riuscire anche ad accumulare un po' i soldi che servono sempre per questo è il nostro veganigramma e abbiamo scelto un albero perché essendo in 19 persone queste radici formano appunto la nostra azienda e quindi il nostro albero nelle foglie sono rappresentati i gruppi in cui eravamo divisi se potete passare al video che avamo in su che sarebbe una sorta di spot pubblicitaria per i soldi per i soldi per l'altro per il mio stanchi di sbagliare sempre con la raccolta differenziata ecco la soluzione a tutti i problemi Trap con il nostro bidone ti semplificherà la vita buttando la spazzatura all'interno la dividerà automaticamente sei un preside stanco a dividere mille bidoni in giro per la scuola perché sono brutti perché la gente non li rispetta e li butta per terra ecco a te la soluzione avendo appunto Trap ti semplifica la vita avrai un bidone con gli spazi che vuoi tu grande piccolo medio lo puoi mettere dove vuoi e come vuoi stanco di vedere mille bidoni che sono in giro sparsi per la scuola per terra non per terra ecco a te con questo bidone qua troverai appunto la soluzione ai tuoi problemi è unico ci puoi buttare tutto ed è più carino vederlo dentro appunto la scuola beh puoi adottare appunto Trap quindi cosa aspetti prendi Trap riduci il tempo risolvi problemi e noi ti aspettiamo aspettate dove andate non scappate non scappate allora voi ragazze complimenti anche a voi vi chiedo invece l'esperienza con la cooperativa Tutor se vi è servita in che modo magari vi ha indirizzato e vi ha dato qualche spunto per rendere anche più più fattibile praticabile il progetto e cooperativa Tutor che ricordiamo è stato indici opponibili di cui abbiamo qua Andrea Nanini allora con la cooperativa Tutor abbiamo trovato allora ci ha dato vari punti di vista che noi ovviamente essendo all'interno e quindi non abbiamo ci ha dato molti spunti per altre idee che potevamo aggiungere perché essendo noi di aver ideato questo prodotto non avevamo pensato a molte cose tra cui appunto il connettore che è di cui avevo parlato prima c'è stato proprio fornito da indirizzato e è stata un'esperienza molto bella appunto collaborare con questa cooperativa anche perché avere sia un punto di vista esterno ma anche di adulti perché alla fine noi siamo 17 anni 18 anni quindi è stato molto impegnativo da sostenere e niente questo penso perfetto grazie mille bene abbiamo terminato con le presentazioni delle classi vi ringraziamo intanto davvero perché siete stati tutti bravissimi bravissime anche solo per aver terminato per aver portato a termine questo progetto che diversi ragazzi nell'intervista o poco fa giustamente hanno ricordato essere un progetto che nasce comunque con una sua complessità ma ci piace vedere queste difficoltà anche come una sfida proprio per allenare e sviluppare più competenze possibili passiamo ora alla fase finale al momento credo un po' più atteso cioè quello delle premiazioni allora intanto annunciamo che ci sarà per tutti un premio di partecipazione che verrà consegnato al termine della della nostra presentazione del nostro evento proprio per ringraziarvi per l'impegno per la creatività nell'aver portato a termine questo progetto ad ogni studente ad ogni docente partecipante al progetto andrà un buono da 10 euro spendibile presso tutte le librerie cop quindi ringraziamo insomma anche librerie cop per questo contributo ok bene passiamo diciamo alla premialità più consistente quest'anno la premialità prevede 5 assegnazioni abbiamo 3 premi dedicati alle idee di impresa prima abbiamo già citato il fatto che una commissione nei giorni scorsi ha visionato e analizzato studiato confrontato tutti i vostri lavori ricordiamo che ogni classe ha elaborato un business model canvas sulla piattaforma Padlet comprensiva di atto costitutivo statuto budget vari elementi di comunicazione nonché appunto sono stati valutati anche i lavori appunto di presentazione che avete effettivamente poi utilizzato oggi ricordiamo quindi che la giuria ha tenuto conto di diversi parametri che vanno dall'impegno durante il percorso quindi dalla partecipazione anche che durante tutti questi mesi gli studenti e le classi hanno messo in campo l'originalità dell'idea di impresa e l'innovazione l'aderenza ai valori cooperativi l'impatto sociale il riferimento appunto all'agenda 2030 la sostenibilità anche a lungo termine dell'impresa e la fattibilità economica nonché l'elaborazione tecnica quindi chiaramente sono tanti parametri che sono stati tenuti in conto quindi dicevamo tre premi dedicati all'idea di impresa c'è poi un premio speciale dedicato alla sostenibilità che intende valorizzare l'impegno della classe nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'impresa l'impegno dell'impresa nel portare a un impatto sociale sul territorio infine c'è un premio speciale dedicato alla comunicazione che non vuole valorizzare tanto la parte grafica di presentazione ma la completezza del progetto comunicativo e della strategia di promozione adottata dall'impresa ci accompagneranno nell'assegnazione di questi premi i rappresentanti i colleghi che hanno fatto parte del progetto e che fanno parte del progetto che stiamo terminando oggi quindi passo la parola a Matteo Manzoni direttore di Conf Cooperative Bologna che assegnerà il terzo premio all'idea di impresa grazie Margherita il terzo premio consiste intanto in un contributo di 100 euro alla scuola vincitrice che va alla classe posso dirlo sì posso spoilerare subito va alla classe quarta TAM del Malpighi appunto per il progetto direzione e democrazia però voglio leggervi anche le motivazioni che la commissione appunto ha scritto perfetto meglio di lì che dal cellulare nonostante alcune difficoltà iniziali nello sviluppo del progetto l'idea di un'impresa cooperativa che sviluppi piattaforme digitali diretti a favorire l'incontro e il dialogo tra i cittadini e le istituzioni favorendo un sistema di cittadinanza attiva e partecipata e dall'altra parte la trasparenza nella pubblica amministrazione è certamente innovativa e idonea a generare un impatto positivo nella comunità territoriale di riferimento in linea con gli obiettivi appunto dell'agenda 2030 bene grazie riusciamo a collegarci un attimo con il Malpighi per così una battuta a caldo noi non ce l'aspettavamo ci siamo rimasti un sacco sorprese e siamo un sacco felici bene ragazze siamo contenti allora c'è il professor Forni collegato se vuole dire qualcosa che tra l'altro è un sostenitore storico di vitamina C sì buonasera a noi è fatto molto piacere partecipare è stato un po' dura perché sembrava che non riuscissimo arrivare in fondo poi le ragazze con un rush finale per fortuna sono riuscite a risolvere i loro problemi tecnici e siamo contenti di poter partecipare quest'anno a questa bellissima iniziativa grazie benissimo bene passo la parola a Claudia Iormetti responsabile dell'innovazione per Open Group e responsabile del progetto allora intanto buongiorno a tutti mi sono piaciuti anche quest'anno moltissimo nonostante le difficoltà e i progetti che bello finalmente un microfono basso io sono qua per il secondo premio che appunto consiste nel contributo di 200 euro e che va alla scuola terza CRITCS Rosa Luxemburg chi siete ragazzi che vi siete spostati prima di qua allora vi leggo la motivazione e vorrei anche sottolinearla perché nella presentazione non è un aspetto che invece la commissione ha sottolineato e che ritengo molto interessante del vostro progetto la classe ha dimostrato di possedere buone capacità nell'organizzazione del lavoro e nella valorizzazione delle competenze e delle abilità di ciascun membro sperimentando dinamiche di collaborazione e cooperazione concrete gli studenti inoltre hanno opportunamente acquisito i principi cooperativi mostrando una particolare attenzione per i temi legati al lavoro dignitoso garantito anche attraverso la predisposizione di un piano di welfare aziendale io questo lo voglio sottolineare che la commissione ha sottolineato e secondo me molto interessante e ovviamente modelli di produzione e consumo sostenibile come avete ben visto in linea con gli obiettivi dell'agenda 20-30 quindi un grande complimento ragazzi se se potete venire un attimo ragazzi vi facciamo anche una foto vicino al vostro premio tutti tutti anche i docenti tutti grazie a tutti bene complimenti ragazzi passo ad ora la parola a Rita Ghedini presidente di Lega Co Bologna che assegnerà il primo premio all'idea di impresa il primo premio va alla classe quarta R dell'istituto Salvemini dove siete? il titolo del vostro progetto è Recycle Your Life la motivazione dice che la vostra cooperativa di lavoro realizza e commercializza contenitori in grado di differenziare automaticamente i rifiuti cerca di dare una risposta concreta a una sfida sempre più attuale quella della tutela ambientale riducendo l'impatto negativo pro capite diffondendo la cultura del riciclo e diffondendo sistemi economici virtuosi favorendo la creazione di una città e di una comunità sempre più sostenibili complimenti ragazze foto anche la prof ci sono già i ricatti per un 10 in economia complimenti passiamo adesso alle menzioni speciali abbiamo qui Anna-Lisa Gambarrota referente per Librazione che assegnerà il premio speciale sostenibilità bene io ho il piacere di dare questo premio al prima di tutto di 200 euro ok altrimenti spoileravo già no sono contenta che va a una scuola che ha affrontato il tema della sostenibilità in modo un po' alternativo pensando moltissimo al benessere e alla salute delle persone partendo proprio dalla propria quindi ho il piacere di premiare il liceo Galvani prego e ovviamente questo premio va alla scuola liceo Galvani che poi provvederà a distribuirlo fra le millanta classi che hanno aderito al progetto esatto la motivazione è legata appunto a uno degli obiettivi a uno dei tanti obiettivi dell'agenda 2030 che quindi mira a diminuire gli sprechi ad avere un basso impatto ambientale degli alimenti che consumiamo tutti i giorni e la cooperativa Grink fornisce una risposta concreta ad alcune sfide insomma della nostra società promuovendo un modello di impresa sostenibile a ridotto impatto ambientale e che favorisce la diffusione appunto della cultura dello zero waste complimenti foto anche per il Galvani anche la docente anche se si vergogna perché anche la professoressa del Galvani è una delle nostre storiche quindi ormai grazie grazie ogni anno siamo contenti di vedere che ci sono sia dei docenti davvero storici affezionati che vogliono ripercorrere il progetto insieme a noi ma anche di conoscere docenti nuovi magari di scuole che sono affezionate però si succedono anche docenti diversi infine passo la parola a Roberto Lippi presidente della fondazione Barberini che assegna premio speciale per la comunicazione dunque premio speciale per la comunicazione alla terza L del liceo Arcangeli 200 euro la motivazione ve la leggo la classe ha saputo dare valore alle competenze specifiche del proprio indirizzo scolastico curando in particolare il marketing e la promozione della propria impresa attraverso una comunicazione chiara ed efficace potenziata dalla creazione del sito web in inglese del profilo Instagram e dalla progettazione di volantini digitali graficamente impattanti complimenti grafico 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 bene stiamo giungendo al termine scusate la foto potete potete tirar giù la mascherina per la foto ragazzi bene ringraziamo quindi tutti i partecipanti tutte le scuole i docenti i ragazzi che hanno reso possibile anche le edizioni di quest'anno ringraziamo anche la regia che oggi ha condotto il nostro evento ringraziamo chi ci ha seguito da casa e direi che possiamo concludere con una foto di gruppo come ai vecchi tempi un po' ammassati ma la facciamo in fretta va bene quindi grazie ancora a tutti quanti e un saluto all'anno prossimo grazie a tutti